Per ritrovati con il Comizio.it per parlare ancora delle elezioni comunali del 3-4 di ottobre, tante città al voto, grandi e piccole, oggi parliamo di Milano e lo facciamo con un candidato al Consiglio Comunale di Milano, Marco Anguissoni. Buongiorno, buongiorno Dottor Pasini, buongiorno a tutti. Parliamo della sua candidatura nella lista civica Luca Bernardo Sindaco, quindi che fa riferimento diretto al candidato Sindaco del centro-destra, come mai questa scelta? La scelta è nata dopo tre consigliature vissute da consigliere del Municipio 8, ho scelto di provare a mettere in campo questa esperienza nella lista civica perché nel frattempo ho visto necessario che la città aveva bisogno di professioni, di impegno, di gente capace, di gente che lavora, di gente che ama Milano e in questa lista, in Luca Bernardo, ho trovato tutto questo, quindi ho deciso di impegnarmi nella lista civica Luca Bernardo Sindaco, Luca Bernardo che infatti viene dal mondo delle professioni, è un medico, una bravissima persona, cura i bambini e con l'amore che ha per la medicina vuole portarlo verso la cura di Milano che ha bisogno di rialzarsi. Ecco, Milano di oggi, che Milano è dopo cinque anni di amministrazione sana? Che Milano è? Una Milano senza prospettive, io ho una bambina di quattro anni e se immagino tra dieci anni, quando lei ne avrà quattordici, che cosa potrà vivere di quello che ha fatto la giunta sala? È nulla, i quattordicenni di adesso, i sedicenni, i diciottenni, noi viviamo opere che hanno fatto le giunte di centrodestra, Albertini prima e la Moratti poi, di cui Pisapie salano solo tagliato i nastri. Cosa lascia sala alla città tra dieci anni e tre quindici anni? Niente, solo qualche ciclabile discutibile. Ecco, le piste ciclabili infatti sono un tema che in questa campagna elettorale è emerso in maniera particolarmente critica da più parti, persino da chi non ha particolare antipatia per le persone che vanno in bicicletta, ad esempio. L'idea della pista ciclabile non è sbagliata a Tukur, però così come è stata fatta, soprattutto penso a Corso Buenos Aires, Via Le Monza, cioè la realtà di chi vive quotidianamente per lavoro, che siano i negozianti o persone che si spostano necessariamente in questi posti, naturalmente esiste una critica sulla viabilità, sulla sicurezza, sulla fruibilità stessa di queste vie. Infatti, ma nessuno è contrario alle forme di mobilità alternative come la bicicletta, ma fare le piste ciclabili, alcune come sono state fatte, tirando una riga di vernice lungo una corsia o stravolgendo totalmente quello che è l'organizzazione di una strada, creando ulteriore traffico, non è la risposta adatta, è una risposta ideologica, utile per la campagna elettorale, per dire abbiamo fatto X chilometri di piste ciclabili. La mobilità alternativa è importante, ma va fatta con razziocinio, sapendo che ci sono tanti cittadini che vengono a Milano per lavorare, tanta gente che lavora in macchina per necessità, tanta gente che si deve spostare in bicicletta in sicurezza e non è un ragionamento integrato, cioè va fatto un ragionamento veramente di futuro, di prospettiva e non solo per dire ho fatto tot chilometri di piste ciclabili. Detto questo poi loro, il centro-sinistra invece si vende questo risultato come chissà che cosa e punta il dito chi lo critica, una critica costruttiva invece ti viene venduta come una critica se è contrario, se è pro passato, no, si è pro futuro, ma se si è pro futuro bisogna essere pro futuro con la testa, non pro futuro solo per dirlo. Ecco, mi collego a un'affermazione che ha fatto lei, non le sembra che questa campagna elettorale è peraltro brevissima, però anche la parte precedente del confronto politico milanese si è troppo incentrata sulle tematiche ideologiche, sulle divisioni teoricamente politiche, poi in questa città in particolare ha bisogno di risposte concrete. L'impegno di una figura come Luca Bernardo e come le persone di cui si è circondato, come lei, potrebbe essere un elemento di risposta alle domande concrete della città di Milano? Assolutamente sì, questa è una campagna elettorale che la sinistra ha voluto spostare sul tema dell'ideologia, sugli attacchi personali, sull'antifascismo, ma non parla di programmi. Luca Bernardo ha presentato un programma vero, reale, di oltre 80 pagine che è a disposizione dei cittadini, in cui si parla di innovazione, di Milano sostenibile, di una vera idea di Milano veloce, una vera idea di ecologia, di una vera idea di arredo urbano, di mobilità, quindi tutte idee concrete, precise, come stile del centrodestra. Invece loro si spostano sull'ideologico, Sala scappa dai confronti, Sala scappa dai temi cruciali e preferisce stare nei suoi muri di Palazzo Marino o andare, come dicevo prima, a tagliare qualche nastro di progetti molto spesso, non solo non voluti dalla sua giunta, ma all'epoca osteggiati da quelli che adesso sono in maggioranza. Dovresti scegliere tre temi su cui puntare fortemente per la Milano dei prossimi cinque anni? Sicurezza, innovazione, ecologia. Credo che questi temi siano importanti. L'ecologia perché non deve essere appunto un tema ideologico, ma bisogna avere tutti a cuore il nostro pianeta e parte da tutte le scelte di ciascuno di noi quotidiane e dell'impegno politico. La sicurezza perché Milano è sotto gli occhi di tutti, è diventata veramente pericolosa in determinati luoghi, specialmente nelle periferie, è diventata difficile da vivere a determinati orari, penso alle donne, penso ai giovani, alle ragazze e si ha paura di uscire dopo una certa ora in determinati quartieri. Tecnologia e innovazione perché dobbiamo guardare avanti, da lì passa l'internazionalizzazione, passa l'accoglienza, passa tante cose che ci permetteranno di far essere, tornare Milano ad essere la capitale economica d'Italia e anche perché no d'Europa. Bene, io ringrazio Marco Anguissola della lista civica Luca Bernardo, sindaco. In bocca al lupo per la chiusura della campagna elettorale del 3-4 di ottobre, grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento con i prossimi approfondimenti sia sulle elezioni del 3-4 di ottobre sia sui temi dell'attualità politica e non.